E' stato definito uno dei più gravi disastri sanitari veterinari avvenuti nelle Marche. I carabinieri forestali del gruppo di Ancona, con la collaborazione di altri reparti dell'arma, hanno notificato a 15 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini emessi dalla Procura della Repubblica. I fatti risalgono al 7 gennaio 2021, quando era stato sequestrato un noto allevamento di cani nel comune di Trecastelli. Quel giorno i militari avevano scoperto una situazione di degrado che causava gravi sofferenze agli animali. La struttura, autorizzata per ospitare 71 cani, ne conteneva oltre 800, di cui diversi rinchiusi nei trasportini o in ambienti pervasi dall'odore nauseabondo dell'ammoniaca prodotta dalle deiezioni. A contribuire a questo scenario sia le attività illecite degli allevatori, sia quelle di chi doveva controllare e che invece dal 2018 al 2021 non ha adottato nessun provvedimento. Anzi, è stata accertata anche l'accessione gratuita di un cucciolo ad un dirigente veterinario incaricato di coordinare i controlli. Inoltre, sono state accertate numerose importazioni illegali da paesi dell'Est Europa, soprattutto di cani di piccola taglia e razze toys, le quali, secondo i carabinieri forestali, avrebbero comportato l'ingresso nell'allevamento del patogeno Brucellacanis, causando l'unico focolaio europeo della malattia che ha determinato il contagio di 400 animali e poi il blocco sanitario della struttura nel giugno del 2020. Neanche questo, però, aveva fermato gli allevatori che, con la complicità di un veterinario libero professionista e di altre due persone, avevano continuato a vendere un centinaio di cani appartenenti al focolaio e potenzialmente malati. Come se non bastasse, dopo il sequestro del canile, gli allevatori avevano cercato di cedere dei cuccioli, ma erano stati scoperti e bloccati. D'altra parte, la Regione Marche si è dovuta far carico degli interventi necessari per la messa in sicurezza del focolaio e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. Con il coinvolgimento del Comune, queste azioni hanno comportato un ingente dispendio di risorse finanziarie e personali. Si parla di oltre un milione e mezzo di euro di fondi pubblici stanziati, con veterinari pubblici e maestranze impiegate quotidianamente da un anno e mezzo per gestire gli animali. Ora, gli allevatori sono accusati, a vario titolo, dei reati di disastro colposo, maltrattamento di animali, mancato rispetto dei provvedimenti dell'autorità sanitaria, corruzione, falso in certificazioni e traffico internazionale di cani. Infine, l'autorità giudiziaria ha ritenuto corresponsabili del reato di disastro anche un veterinario, tre dirigenti dell'Azur, cinque appartenenti ad organi di controllo e un amministratore locale.